Siamo andando a fare running oggi, siamo in una strada piena di turistico, la porta aperta sul più fantastico, una cosa, un paesaggio fenomenale. Ciao Pa, saluto la telecamera. Questo coso raggiunge la prima volante, l'uscita di 15 km di un'ora in salita in una strada straordinariamente ben durata. Grazie a tutti.